Sono al Montepora con Michela Moioli, nota atleta bergamasca, vincitrice della Coppa del Mondo di Border Cross del 2016. Sentiamo le sue impressioni sulle gare che ha appena svolto e sui programmi di lavoro futuri. Ho fatto due gare finora, una sesta e una seconda. Sono abbastanza soddisfatta perché io di solito la prima gara non vado mai tanto bene. Sono poco attiva, sono troppo agitate, quindi sono contenta così. Adesso mi sto allenando, l'8 parto con la squadra per allenarmi e il 16 vado in America per la prossima tappa della Coppa del Mondo. Quindi seguitemi perché quest'anno abbiamo anche i mondiali e darò il massimo, però non dico niente. Bene, allora sei carica, hai voglia di far gare? Sì, 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 non vedo l'ora, sì, ho voglia di fare dei miei risultati. Nel frattempo sciamo qui e vi auguro buon anno e vi auguro tanta neve. Ok, ciao a tutti, ciao, ciao.